Per l'emergenza coronavirus individuati in nuovi ospedali, l'ASL ha previsto il trasferimento dei pazienti che necessitano di ricovero, colore il cotugno non abbia disponibilità di posti letto, in altre strutture, tra queste l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ad aprire le loro porte ai pazienti affetti da coronavirus anche le parti di malattie infettive dei presidi di nocere inferiore e deboli. Per le persone che abbiano bisogno di trattamenti intensivi si farà riferimento alla rianimazione di eboli, in attesa che vengono completati gli interventi all'ospedale di Scafati, individuato come nosocomio dedicato per i pazienti di covid-19. Qui gli uffici ASL hanno già avviato anche la manifestazione di interesse per assumere 50 infermieri per sei mesi. Per il trasferimento dei pazienti verrà invece dedicato un trasporto interospedaliero con rianimatore, che utilizzerà una barella ad alto biocontenimento per consentire appunto il trasporto in sicurezza. Il servizio provvisorio sarà a disposizione ovviamente di tutti. Nessuna disposizione, almeno per il momento, per l'ospedale di Agropoli, per il quale anche era stata sollecitata la riapertura. Intanto, presso l'ospedale di Vallo della Lucania, il direttore Adriano Di Vita ha disposto, proprio in ottemperanza alle nuove disposizioni del Governo, lo stop alle visite ai pazienti ricoverati nei reparti.